Extroyer, ci tiene troppo a questa valigetta, non è saggio consegnargliela. Ha preso Silvio, non abbiamo scelta. Cosa c'è lì dentro? Sono campioni di DNA, estratti dalle creature più rare e letali del nostro pianeta. Cosa? Noi abbiamo rischiato la vita per uno stupido progetto scientifico. Stolti! Grazie a questi potrò trasformarmi negli animali più pericolosi al mondo. Grazie a questi finalmente non avrò più rivali, le Maltz Red, le Maltz Steel. Lasciate che ve ne dico una dimostrazione, usando il DNA del cobra nero. Non avremmo dovuto consegnargli la valigetta. Non soffermiamoci sul passato, anzi non pensiamoci proprio. Vai col turbo! Velocezza! Tu mi posso aiutare? Altanto via! Aspetta, non ho ancora fatto la patente! Non c'è problema! Il GPS è impostato per portarti alla stazione di polizia. Allora, grazie! Non c'è di te signori, no! Non so davvero prima di ringraziarvi per avermi salvato da quell'orribile nostro. Figura, ci abbiamo solo fatto il nostro lavoro, bene? Forza, adesso devo fare la patente! Dove ero rimasto? Steel! Ah, sì! Vai col turbo! Passa! Vai col turbo! Volo! Ti siamo mancati? Io aspetto! Forse ho sbagliato qualcosa! Puoi dirlo forte! Scusa! Vediamo un po' sotto che forma ti posso stendere! L'orso polare! Steel! Mettite alla guida! Ricevuto! Oppure l'aquila reale! La famosa tigra d'idea di asciato! Questa volta sei finita, extraio! La pagherete sana! Credo che questa volta tu l'abbia distrutto! Allora andiamocene prima che il nonnetto si sveglie! Scusa! Forse dovremmo fidarcela anche noi! Già! E direi di non lavorare più per questo psicopatico! Credo che non rappresenterà più problema!